Atri ancora in fiamme. Dopo il rogo di venerdì scorso nella zona di Villa Ferretti, sito di interesse comunitario, nella notte tra sabato e domenica un nuovo focolaio è interessato questa volta alla riserva dei Calanchi. Ad accorgersi intorno alle 22 del propagarsi delle fiamme un residente che subito ha allertato i soccorsi evitando così il peggio. Punto d'innesco il boschetto Belvedere con le fiamme che subito si sono propagate verso i Calanchi. Quella di Colle della Giustizia è una zona molto impervia. Così per domare l'incendio, oltre ai vigili del fuoco, ai mezzi fuori strada delle associazioni Gran Sasso e Cives di Teramo, sono entrati in azione dalle prime luci dell'alba due Canadair che hanno messo in salvo non solo la riserva ma anche Campi di Grano, Olivetti e le case Limitrofe a coordinare in mezziaere il DOS, direttore delle operazioni di spegnimento di Teramo. Per fortuna non sono molti gli ettari interessati ma quasi certamente questo ennesimo episodio causato ancora una volta dalla mano dell'uomo difficilmente ha dato scampo alla fauna della riserva ricca di caprioli, istrici, tassi, volpi e scoiattoli. Una macchia nera che ci accompagnerà per tutta l'estate ricordandoci che la natura brutale dell'uomo si combatte solo ed esclusivamente con l'unione e la collaborazione e in questo caso specifico anche con la grande professionalità delle persone. Questo il commento lasciato sui social dal direttore dei Calanchi di Atri, Adriano De Ascentis, che poi lancia un accorato appello a chiunque possa fornire informazioni in merito a movimenti strani in modo da aiutare gli inquirenti che continuano ad indagare sulle origini del ruogo.